Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i principali titoli del nostro telegiornale. Piscopio, omicidio massimo ripepi, il responsabile si è costituito al comando provinciale di Vibo Valencia, fermato anche il figlio della vittima. Ancora allagamenti al parco archeologico di Sibari nel Cosentino. Ludopatia in Calabria, fenomeno in aumento nell'anno 2017. Partita la prima edizione a rende dell'October Fest in Tour Calabria. E si è costituita ai carabinieri del comando provinciale di Vibo Valencia la persona che ha ammesso di essere l'esecutore materiale dell'omicidio di Massimo Ripepi, avvenuto lo scorso 21 ottobre nel centro storico di Piscopio, frazione del comune di Vibo Valencia. Accompagnato dal proprio legale, l'ex cognato della vittima si è assunto le proprie responsabilità e dal termine dell'interrogatorio è stato posto in stato di fermo. Lo stesso provvedimento è stato disposto dall'autorità giudiziaria nei confronti del figlio maggiore della vittima che avrebbe fornito usilio allo zio nelle fasi concitate della fuga dal luogo del diritto. Ad incastrare l'ex cognato del figlio maggiore della vittima, oltre ad alcune dichiarazioni rese da testimoni, si sono rese utili le immagini di videosorveglianza reperite sul territorio da carabinieri e polizia. Il movente del delitto è da ricondurre ai ripetuti maltrattamenti che la vittima rivolgeva ai danni dei propri due figli e dell'ex moglie. E cambiamo decisamente argomento dopo l'alluvione del 2013 ancora allagamenti al parco archeologico di Sibari. Vediamo. Nel 2013, in tante ricorderanno queste immagini, gli scavi archeologici di Sibari allagati e pieni di fango servirono settimane per far tornare la situazione alla normalità dopo l'alluvione ed ora in un certo senso si può dire ci risiamo anche se le cose sembrano essere diverse rispetto a quanto accaduto cinque anni fa. Nuovamente allagato infatti il parco archeologico di Sibari, l'aria infatti è ricoperta da circa mezzo metro di acqua. L'allagamento è stato provocato alle recenti copiose piogge degli ultimi giorni ma potrebbe essere legato anche ad un cattivo funzionamento delle trincee drenanti. Danneggiato anche il gruppo elettrogeno che alimenta l'intero parco archeologico. Ci siamo già attivati e stiamo lavorando, ha detto la direttrice dell'area archeologica di Sibari, Adele Bonofiglio, per rimettere in funzione il sistema del well point, cioè il sistema delle ponte idrovore. Speriamo che già nelle prossime ore si possa ritornare alla normalità e solo allora potremo sapere cosa è realmente successo. Il fenomeno del gioco d'azzardo in Calabria per il 2017 ha registrato numeri record. In molti casi si parla di ludopatia che necessita di interventi terapeutici. La Calabria nel 2017 ha bruciato 535.205 di euro nel gioco d'azzardo. A diffondere i numeri forniti dall'azienda autonoma Monopoli di Stato e a riaccendere ancora a volte riflettori sulle azzardopatie è Roberto Gatto, responsabile del settore dipendenze della comunità Progetto Sud di Lamezia Terme, referente regionale della campagna Mettiamoci in gioco. La preoccupante situazione calabrese riflette il dato nazionale che continua a segnare un trend in continua espansione con effetti devastanti. Quello che prima si chiamava gioco ora è diventato un'emergenza sociosanitaria. Chi ha il vizio dell'azzardo fa terra bruciata intorno a sé, mandando così in frontumi affetti familiari e relazioni, oltre ad avere danni economici di non poco conto. Il giocatore non è solo il ragazzo, ma anche chi vive in una condizione misera o al limite della povertà e va a giocare sui risparmi confidando nella sorte, con la speranza di migliorare la propria condizione. Il destino però non è sempre benevolo, né in Italia né tantomeno in Calabria. Infatti lo scorso anno in provincia di Catanzaro si sono giocati 553.301 euro, vinti 452.386 e persi 100.914. Nella provincia di Cosenza le giocate hanno superato il miliardo, con vincite per 850.000 e rotti euro. Nella provincia di Reggio sono giocati 892.000 circa, per vincite 723.000, persi 168.000. E cambiamo nuovamente argomento, dalla Filcams CGL giungono consistenti critiche nei confronti del DEF. Il DEF è certamente l'argomento principale del panorama politico nazionale, ma anche al centro del dibattito in Europa. Reddito di cittadinanza e non solo tanti provvedimenti che hanno spaccato in due l'Italia diversi pareri a favore, quelli contro. A quest'ultimi si è unita anche il segretario nazionale della Filcams CGL, Maria Grazia Gabrielli, intervenuta alla mezzaterme al congresso regionale. Attualmente del DEF in realtà ci piace direi poco e nulla, perché è l'impianto complessivo che continua a non dare risposte coerenti alle grandi esigenze di questo Paese. La prima esigenza è quella di far crescere il lavoro, di creare condizioni di lavoro e di creare condizioni anche di lavoro di qualità. Nel DEF la parte degli investimenti che quindi sono fondamentali per rideterminare una ripresa dell'attività nel nostro Paese a partire dal recupero di quel divario tra nord e sud del Paese non ci sono. Quelle risposte non ci sono. C'è una risposta che guarda al condono fiscale, che finalmente è stato chiamato con il proprio nome. C'è il tema del reddito di cittadinanza, di cui però ancora non conosciamo i dettagli, ma che in qualche modo non è una risposta alla crescita dell'occupazione. perché per la crescita dell'occupazione bisogna investire in innovazione, in ricerca, in infrastrutture materiali e immateriali per poter rideterminare una ripresa anche in termini occupazionali. Il reddito di cittadinanza non fa crescere il lavoro, prova a dare una risposta parziale ad un grande tema, che questo sì è un grande problema nel Paese, e cioè il problema dell'allargamento e delle estensioni della povertà. Però come CGL abbiamo sempre detto, non da oggi, ma da lungo tempo, che il tema non è quello di assistere le persone che hanno sì bisogno di una rete di protezione nei momenti di maggiore fragilità, mentre cambiano lavoro, mentre perdono il posto di lavoro, ma il tema vero della prospettiva per i tanti giovani, a partire dai giovani del sud del Paese, è quello di metterli nelle condizioni di avere un lavoro e avere un lavoro di qualità. Centinaia di persone hanno preso d'assalto i grandi capannoni utilizzati per il primo tour in Calabria dell'Octoberfest che fa tappa a Rende e che ha preso il via nella giornata di ieri. Questa prima botta è stata spillata, inizia quest'oggi, questo Octoberfest in tour, prima edizione in Calabria, che si svolge, si svolgerà, si svolge a Rende. Esatto, saranno 12 giorni di festa per tutta la regione Calabria, c'è grande entusiasmo, lo stiamo percependo, le persone che ci stanno vicino ci trasmettono veramente grande energia, questo è il coronamento di un lavoro durato veramente molti mesi che abbiamo cercato di portare avanti con grande scrupolosità e cercando di mantenere gli standard paulaner a livello altissimo. Una festa, come dice il ritornello, una festa per tutti? Tutto in una festa, esattamente, una festa per tutti, una festa per le famiglie con i bambini che hanno la possibilità di divertirsi in questo meraviglioso Luna Park, una festa per le persone adulte, una festa di convivialità, di amicizia, potrà capitare di sedersi allo stesso tavolo con persone perfettamente sconosciute fino a qualche minuto prima, ma dopo un paio di prosit ci si diventa amici in un momento. Vogliamo ricordare perché questa Octoberfest in tour si rifà a quella più celebre, la festa della birra di Monaco di Baviera. Esattamente, quella di Rende è una delle sette feste ufficiali paulaner in Europa, Monaco di Baviera, Marsiglia, Madrid, Parigi, Barcellona, Cuneo e Rende, queste sono le sette città che ospitano questa prestigiosa manifestazione certificata paulaner, è un onore per noi essere riusciti a portarla in Calabria, unica tappa per il sud Italia, quindi veramente un motivo di grande orgoglio per tutti. Quella legata al vino è una vera e propria passione. A Vibo Valencia si è tenuto un corso per sommelier che ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di persone che hanno il desiderio di conoscere dettagli tecnici del nettare degli dei. È l'alimento che può dare il tocco di raffinatezza alla tavola. Il vino non si beve, si gusta e quando si assaggia tutti i sensi si accendono e si è trasportati in un viaggio emozionante, perché ogni vino è unico, capace di regalare immagini, ricordi, sensazioni, a volte irripetibili. Da sempre il vino è cultura e parte di un mondo ricco di storie e anche di ricerche e nuove scoperte. Sarà per questo che col tempo la figura dell'intenditore di vini si è raffinata, rappresentando nell'immaginario collettivo un simbolo di classe, di saper vivere cogliendo il meglio della vita. Il vino si ama con passione e la sua degustazione diventa un omaggio tra infinite sfumature di colore, profumo, gusto. Il sommelier è la figura qualificata per la presentazione e il servizio del vino e il crescente interesse di un gran numero di amatori che si affiancano agli operatori del settore e ha incrementato la domanda di organizzazione di corsi professionali in tutto il territorio italiano. A Vibo Valencia, l'associazione italiana sommelier è ritornata proprio per presentare un nuovo corso, un appuntamento che ha attirato, questa volta come tutte le altre volte, tanto interessanti a vivere queste esperienze tra degustazioni guidate, seminari a tema, cene, gite presso aziende vinicole. Da qualche tempo si è rinnovato un certo interesse intorno ad iniziative simili, l'idea di essere sommelier attira. Sì, è qualcosa di molto bello, questo corso ti dà la possibilità di essere autonomo nella scelta non solo del vino ma anche di quello che vai a decidere come cibo e quindi le aspettative possono essere di un certo tipo ma quello che poi dà questo corso è molto di più, quindi la capacità di essere autonomi nella valutazione della qualità in un mondo in cui il concetto di qualità cambia continuamente è molto importante. Questo significa anche prepararsi, al di là del fatto che può nascere una professione, prepararsi ad un modo di vivere e di approcciarsi diverso. Certo, le nostre classi sono delle classi molto eterogenee, nel senso che abbiamo il ragazzo, la persona più giovane che lo fa per uno scopo professionale ma abbiamo tanta altra gente che si avvicina semplicemente per conoscere meglio il vino e quindi si trovano di fronte ad un alimento che non è solo alimento perché il vino è un elemento anche conviviale, quindi ti dà la possibilità di stare in compagnia in un modo diverso, di scegliere e di vivere questo piacere insieme a persone che condividono il tuo stesso desiderio, il tuo stesso gusto e quindi questo è molto importante. Questo si aggiunge in una regione dove i vini hanno fatto un salto qualitativo importante. Sì, certamente. Qui in Calabria ovviamente il panorama vitivinicolo è molto cambiato, è cambiato perché sono nate tante cantine, perché il vino ha raggiunto una qualità più elevata proprio perché c'era una domanda, c'era una domanda di maggiore qualità e la produzione ovviamente si è dovuta anche, come dire, rifare a dei canoni diversi e questo è importante. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto alle 19.30 per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it Grazie e a più tardi.